buonasera a tutti e dal vostro grande capitano napoli appena terminato l'importante sfida del posticipo delle 20 e 30 tra fiorentina e mina valevole per la 36esima giornata di serie a è terminata con la vittoria del mila per 1 a 0 il 35esimo del primo tempo con il turco caneggiolo con questa vittoria importante il milan il mila torna al quinto posto è a un solo punto dall'inter che quarta che comunque giocherà lunedì sera in casa cucchievo verona è da meno tre punti dall'atalanta quindi il mila continua a coltivare il sogno champions league vedremo cosa succederà nelle prossime due partite il mila va in vantaggio nel primo tempo una fiorentina veramente molto pessima nel primo tempo è veramente una squadra dalle riva dodicesima partita consecutiva che non vince e quarta sconfitta consecutiva nel secondo tempo c'è stata una discreta reazione della fiorentina ma nulla più quindi finisce con fiorentina 0 mila 1 mila adesso il quinto posto a 62 punti a un punto dall'inter 4 che deve ancora giocare una sfida sulla carta abbordabile in casa lunedì sera contro chievo verona e tre punti dall'atalanta è stata una partita bene o male dove il mila ha meritato di vincere una fiorentina ripeto che vedendola a parte una reazione d'orgoglio nel secondo tempo è veramente in caduta libera i tifosi della fiorentina non devono far altro aspettare che finisca questa stagione vi auguro un buon proseguimento di serata dal vostro grande grandissimo capitano napoli chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale vedete un bel like a questo video sempre forza napoli dal vostro grande capitano napoli ci vuoi no